A Terramo si accendono gli animi sul piano urbano della mobilità sostenibile PUMS presentato dal Comune. Dopo le proteste di commercianti ma anche cittadini, l'opposizione comunale compatta è intervenuta per chiedere l'immediato annullamento del piano. Oggi il tema è proprio questo, noi dobbiamo azzerare tutto ciò di sbagliato che è stato fatto da un'amministrazione che non ha voluto condividere niente, ci ha imposto l'approvazione di una delibera di adozione di un PUMS, quindi non è vero che è una bozza, non si sa cosa vuole, su che cosa dobbiamo discutere e quindi non è possibile procedere così. Ci vuole l'annullamento di questa delibera immediata. Ma al centro delle polemiche è anche la questione legata alle strisce blu. Sui parcheggi immediatamente un'operazione di riduzione delle tariffe, di agevolazione dei residenti come succede nella vicina Ascoli dove i residenti pagano 25 euro un anno, dove ci sono agevolazioni, dove il parcheggio costa un'ora e dove non si vengono a fare queste operazioni jolly che mi sembra, noi non stiamo giocando a carte, qui stiamo giocando sulla pelle dei cittadini, quindi parlare di queste cose su cose serie non si può. Quindi fare mezz'ora di non pagamento è una cosa assolutamente assurda. Diciamo che questo non può essere condiviso e va denunciato in modo forte perché questa non è più una cosa che possiamo sopportare. Il problema è che i tempi stringono, perché per il PUMS ci sono dei tempi ben precisi. I tempi stringono, hanno fatto una proroga, ma i tempi sarebbero brevissimi. Annullare una delibera ci vuole un minuto e si riparte da zero.